TG7 Basilicata a Campomaggiore nella città dell'Utopia. Ne parliamo con il sindaco di queste due giornate. È un'iniziativa che vuole valorizzare ulteriormente il borgo che per chi non lo conosce, la città dell'Utopia è stato un esempio nel 700 di un avanzato borgo rurale concepito secondo criteri, impostazioni radicalmente innovativi per il tempo, dove le famiglie confluivano qui perché avevano un pezzo di terra da poter coltivare, la casa da trasmettere ai propri eredi e successori, insomma una politica di uguaglianza sociale e benessere per chi veniva qui e aveva la garanzia del pane quotidiano. Noi con questa iniziativa vogliamo rievocare quelli che erano i principi salti anche di quella comunità che si fondava sul reciproco aiuto tra famiglie e famiglie, la solidarietà, anche il rispetto dell'ambiente perché diciamo lo stesso Conte quanto dava la possibilità di tagliare dalle sue proprietà gli alberi per ricavare le travi necessarie sia per i tetti delle proprie case sia per riscaldarsi imponeva ad ognuno di piantare tre alberi da frutta a sua scelta. Quindi sono delle giornate di gioia, di condivisione e di infondere anche nelle generazioni, perché ci sono anche parecchi bambini che hanno ben gradito l'iniziativa di vestirsi, di infondere anche in loro quel senso di appartenenza che va recuperato e rafforzato per chi già ne ha la consapevolezza. Un attrattore turistico per tutto il territorio? Certamente, è necessario innanzitutto mettersi ancora meglio e di più in rete perché il nostro angolo della Basilicata, questo qui Campomaggiore, ma anche i paesi vicini che già da tempo stanno lavorando per attrarre dei flussi turistici aggiuntivi e diciamo dobbiamo anche cooperare in maniera sinergica, in maniera più decisa per far sì che questo territorio abbia quelle sue caratteristiche che vengono apprezzate perché senza dubbio possono, diciamo nel turista, suscitare interesse, attenzione e nonché anche emozione. Per il futuro quali potrebbero essere i progetti per migliorare queste due giornate? Noi innanzitutto è stato un test quella di quest'anno per quanto diciamo abbiamo già fatto con capitale per un giorno anche un'iniziativa tipica, però sarà anche quello di implementare, di vedere quello che va sicuramente migliorato, di metterla più in rete e di offrire anche maggiori servizi noi come territorio e stiamo anche lavorando per questo. Grazie Sindaco.